Sarà il futuro di Mazzara del Vallo con Giorgio Randazzo Sindaco? Il futuro di Mazzara del Vallo è portare il buonsenso della Lega, le idee di Matteo Salvini, la rinascita territoriale anche a Mazzara. La Lega sta investendo tantissimo sul progetto di Giorgio Randazzo che è una persona che sta crescendo nel vivaio della Lega e porta proprio quei valori che vogliamo. L'amore per il territorio, la pulizia etica, morale e soprattutto la forza di cambiare questa città. La Lega anche in Sicilia ormai prende sempre più spazio, Mazzara del Vallo, quale sarà il ruolo di questa città all'interno del partito? Ogni città avrà il suo ruolo, la Lega è un movimento che nasce proprio dalle realtà territoriali, è l'unità elementare di quello che dovrà essere un progetto che va ben al di là di questa regione, di questa nazione ma che riguarda il futuro ordine mondiale. Ma questo deve assolutamente partire dai territori. Il governo internazionale delle lobby che negli ultimi trent'anni ha condizionato l'economia di tutti i paesi, in particolar modo il nostro, profittando delle nostre debolezze, ha terminato il suo corso. Penso che persone come Giorgio Randazzo rappresentino proprio la punta di diamante di questo sforzo, di un nuovo ordine mondiale ed è per quello che proprio partendo da Mazzara dal Vallo in realtà come queste noi riusciremo a ricostruire un occidente che avrà un futuro per chi oggi ancora neppure è tra di noi. Giorgio, il primo obiettivo, il primo passo una volta diventato sindaco quale sarebbe? Quello di ripristinare il buonsenso e la trasparenza all'interno dell'ente comune. Per troppo tempo abbiamo sentito i cittadini distanti e consapevoli che all'interno del comune si faceva di tutto tranne che l'interesse degli stessi cittadini. Attiveremo una politica di spending review, di riorganizzazione e soprattutto di trasparenza di tutti quei provvedimenti che magari nel recente passato sono stati omessi o non sono stati portati avanti. Iniziamo a programmare da subito la stagione estiva che è importante e fondamentale per lo sviluppo del territorio a livello turistico attraverso un tavolo di concertazione con tutte le attività connesse al territorio che vanno dagli stabilimenti balnerari alle strutture ricettive. Credo che questo sia il primo passo. Dopodiché ci dedicheremo a riorganizzare quelle che sono le riforme essenziali per questo territorio dal piano spiagge al piano regolatore che da vent'anni ne parlano tutti e nessuno ha mai avuto il coraggio di affidare questo benedetto incarico per la realizzazione per poi parlare di elementi più strutturali. Mazzara del Vallo ha bisogno di ritornare alla normalità una città in cui i cittadini pagano le tasse e se le vedono ritornare in servizi. Credo che questa sia una grande rivoluzione in tal senso da questo punto di vista. Perché scegliere Giorgio Randazzo? Scegliere Giorgio Randazzo perché come abbiamo visto è un giovane coraggioso, una persona che conosce benissimo i problemi di questa Mazzara. È stato un consigliere comunale che ha fatto mille proposte a questa amministrazione e ha le soluzioni giuste per questi problemi e ha le soluzioni realizzabili per le questioni più annose che effettivamente affliggono questa città. Con una squadra di tutto il rispetto che sarà in grado di dare l'esperienza e quella competenza in più che serve per avere uno slange, avere un'amministrazione che nei prossimi dieci anni possa riportare questa città alla normalità. Quali i progetti principali a cui sei più affezionato? I progetti principali non possono che riguardare chiaramente il turismo, la viabilità e le politiche sociali. Il turismo è una cosa appunto quasi banale ma il collegamento con le isole minori deve ritornare a Mazzara necessariamente perché è una fonte di turismo fondamentale. Bisogna recuperare la spiaggia di Tonnarella e dotarci di un piano di utilizzo del manio marittimo efficiente che possa anche far incassare qualcosa al comune e che possa rendere fruibile appunto a 360 gradi l'area di Tonnarella piuttosto che le aree dei maniali che oggi effettivamente qualche problema l'hanno riscontrato. Vedi la questione gazebo del lungomare Ops. Giorgio Randazzo sindaco a Mazzara del Vallo, quale sarà il suo punto forte? Come cambierà questa città? Il punto forte è sicuramente Giorgio Randazzo, su questo non c'è dubbio, puntiamo su di lui, sulla sua grande forza che deriva dalla sua età, dalla sua caparbietà, dalla sua anche grande esperienza che ha maturato tra i banchi dell'opposizione in questi cinque anni di Consiglio Comunale. è un giovane ma è una persona che conosce benissimo questa città per cui sa bene come inaugurare una stagione nuova per tutti i cittadini mazzaresi. Io penso che la speranza che tutti in qualche modo hanno è proprio di cambiare rotta, di immaginare una città completamente diversa, più a misura di cittadino, che possa dialogare con la gente parlando proprio dei problemi di ogni giorno, cercando di affrontarli. Io penso che Giorgio voglia assolutamente aprire ad una città molto più tranquilla, molto più normale, che non viva i problemi come emergenze ma li affronti nella sua quotidianità. Penso che questo sia già un grandissimo risultato. Ritrovarci qui così tanti penso che sia un importante segnale. Ci sono ora due mesi da qui alle prossime elezioni e penso che il lavoro che dovremo fare sarà quello di parlare con ognuno dei mazzaresi per in qualche modo far passare il messaggio di grande rinnovamento e di grande scommessa che si vuole mettere nella Lega e soprattutto in Giorgio Randazzo e nella squadra che lui presenterà a tutti i cittadini. Il motto di questa campagna elettorale è liberi per ricominciare. Liberi da che cosa e verso dove andare? Diciamo liberi dalla vecchia politica. Questa coalizione si presenta come una coalizione forta fatta di grandi personaggi, di giovani, di rappresentanti locali, di imprenditori e l'innovazione.